Bro, tutto divertente, simpatico, finché non diventa... finché non creano Pokémon E i Pokémon diventano sezienti fotorealistici e trovi quel Vaporeon nell'arba alta Trovi quel Mr. Mime Trovi quel Mr. Mime che... what the mouth do? Trovi quel Mr. Mime che si abbassa... no, Likitang Eh, è vero, sì Likitang è un... Jinx Brr, 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 brr E invece abbiamo visto, parlando di chat GPD A parte che l'hanno rilegalizzata, eh Sì, sì, ho visto, ho visto che l'hanno rilegalizzata L'hanno rilegalizzata in Italia No, cioè non è che ho visto Allora, io avevo pensato Proprio ho detto Sarebbe assurdo se qualcuno collegasse, cioè a GPD Ha gli NPC nei giochi E poi con un text to speech Quindi come si può dire in italiano Tipo un sintetizzatore Tu scrivi il testo e c'è una voce che te lo legge Chissà se era possibile collegare sta roba e creare degli NPC mezzi senzienti E si può fare Sì E come dicevo anche te L'hanno fatto su Skyrim E c'è il video Bro, te lo giuro È una mod Sì, sì, è una mod Però c'è Skyrim VR E c'è il tipo che va in uno stello Osteria Come si chiama? La taverna La taverna, bravo E lui ha collegato tipo tutti gli NPC della taverna Con chat GPT Facendo le sue cose, eccetera Fa vedere un attimo come Però è allucinante Lui parla col tipo della taverna E il tipo della taverna Lei risponde Ma non sono discorsi comunque programmati Sì, sì Puoi parlarci per ore, ore, ore E lui comunque memorizza tutto quello che gli dice Quindi si collega anche alle cose che gli dici E a un certo punto, zio Il tipo indica, cazzone soli Dice Cosa puoi dirmi su quel cavaliere seduto là? E il proprietario della taverna si gira Fa Ah, sì, lui è questo qui Fa questo, fa quello, è andato quello Tutta roba inventata Capisci? Però ha creato una lore su un personaggio Bro E questa roba qua Io non so se la gente capisce quanto Non so se poi sarà possibile effettivamente avere un GTA 7 In cui tutti gli NPC Sono collegati ad un'intelligenza artificiale, no? E quindi non devono più scrivere i dialoghi Basta che magari, ecco, dici Lui è il Sì, dai le informazioni Lui è un politico Politico simpatico E quindi poi c'è GPT lì che era la personalità Però bro, è rivoluzionario È rivoluzionario È bello se riuscissero poi come step successivo A far sì che Il gioco non ha più una trama settata Ma la trama si sviluppa effettivamente In base proprio a quello che succede Cioè lì sarebbe assurdo, ti immagini? Tu vai da uno Uccidi uno E dato che hai ucciso l'amico Quello si arrabbia Quindi si crea Cioè non lo so La trama si costruisce piano piano Intanto che tu fai le cose È finita bro Il giorno che c'è una roba del genere Non si esce più di casa Ma pensa che già adesso bro Ci sono quelli che si innamorano Di vari personaggi Immagina il giorno che questi qua diventano senzienti Comunque fake senzienti però Che appunto si ricordano di te Ti parlano Magari tu voglia di raccontare i tuoi problemi reali E quello ti consola e ti dà una mano bro È finita Eh però è bello Non esce più di casa Sì è bello ma mi sembra una roba così È un po' mezza distopica Però Io toglierei anche il mezza Però cazzo È una di quelle cose che dici Voglio provarla bro Voglio provare il Freddo tocco di una Lempisi ussi Lempisi ussi Anche perché Pensa comunque Cioè tu fai sto Sti giochi Com'è che si chiamano Sandbox I sandbox Sì I sandbox Cos'è un sandbox Tipo un Tipo Minecraft Eh però Cioè dove crei le cose Credo Ok Tipo che c'è una mappa aperta È letteralmente un box E dove dentro ci crei tu Quello che vuoi Ok 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 Penso almeno che voglia dire questo Pensa giochi sandbox Dove tu puoi creare Non so L'editor del gioco Così Crei tu il personaggio Li dai tu I tratti basi appunto E ognuno potrebbe Come dicevo prima Fare il proprio gioco Ogni volta nuovo Ogni volta con dei personaggi nuovi Ogni volta con Ti senti Dio Ti senti Dio Ma è troppo potere Lowkey No Ma letteralmente viviamo in una simulazione A questo punto Anche noi capite Eh Eh Cazzo Cioè se ci pensi Magari tra vent'anni L'IA sarà abbastanza sviluppata Da fare effettivamente Un mondo Eh magari sarà foto Tu non so se hai visto Sto gameplay Che è girato tantissimo Ah il foto Quello fatto realistico Cioè Adesso non mi ricordo Il nome di Stademo L'FPS no? Sì era Stademo Che è diventata virale In cui praticamente appunto C'è questo Shooter in prima persona Shooter in prima persona Foto realistico Che letteralmente tu lo guardi Ed è un video Non ci credi che è un gioco È un video Fa un po' impressione Fa un po' impressione anche Perché sembra che stia Effettivamente uccidendo la gente Sì 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 È bruttissimo Cioè capi Una cosa se lo vedono I nostri genitori Magari vedono Non dico fortnite Però dicono wow È vero capito Bro noi che comunque Giochiamo da una vita Vedere una roba del genere E dire ok Questo non so se è un gioco La realtà To real Eh Sì 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 Quello Mischiato appunto Un'intelligenza artificiale Che ogni due mesi Migliora esponenzialmente E già adesso Puoi creare appunto In pc Che ti rispondono E ti parlano Bro diventa Cioè il gameplay Quello lì Foto realistico Anch'io l'ho guardato Essendo cresciuto Con sta roba Vorrei poterlo mettere qua Ma non abbiamo Né la tecnologia Né la forza Lavoro per farlo Ma soprattutto Non so Perché è violento Ok Non so se si può mettere Cercatelo Sì Peccato che non mi ricordo Il nome Però Io che comunque Crescendo con i videogiochi Blablabla Minchia l'ho visto E cioè ci ho messo Un attimo Cioè ci sono rimasto Un po' interdetto Ho detto Ma è un gioco Per un secondo Poi sì Comunque la pistola C'è una Qualcosa che ti fa notare Che è un gioco Però è davvero pochissimo Cioè è troppo realistico Infatti quello che Anch'io pensavo Minchia Cioè è il discorso Del cazzo Da vecchio Del gioco Che crea la violenza Tipo Quello che hanno sempre detto Per GTA Sai I giochi Che ti fanno diventare Violento Sta roba qua però Ho detto Merda Cioè magari Io non ci ho mai giocato Ma magari Se ci giocassi Mi sentirai un po' strano No? Che è quella roba lì Del tipo Spari a uno E la prima volta Probabilmente Deve essere scioccante Certo Poi piano piano Ti abitui E sembra Cioè a me dà un po' l'aria Che potresti Abituarti a questa cosa Però secondo te Potrebbe anche essere usata Per tipo Sai magari Tu sei già Un pazzo di tuo E al posto di uscire fuori A sparare dentro Una scuola Magari capito Fanno lo school shooter Simulator Minchia No cioè Non dico che sia giusto Però Sì sì Magari potrebbe essere Una soluzione VR La scuola elementare O superiore E fai ciò che devi Luca ti ho detto Mille volte Che il panino Non te lo do E lo uccidi in VR Capito In game Il giorno prima Apri il gioco E dici al tuo amico Al tuo NPC simpatico Non vederà a scuola domani E lui che è collegato All'IA Capisce Non vederà a scuola domani E non viene davvero Porca troia Magari sul giorno dopo Accendi c'è la polizia Davanti a scuola Perché hai capito Il tipo Minchia L'hai infamato Bro incredibile Che bello Comunque questa roba Dei giochi che si creano Da soli Eh sarebbe troppo No bro Allucinante Io sono sempre Io amo l'AI Ma sono contro Comunque Lo sviluppo Senza Sfrenato dell'AI Senza capire veramente Cosa stiamo facendo Però quando sento queste cose Un po' dico Che spacca Però secondo me sono troppi Più contro Immaginati Davvero bro Davvero Sai che ci sono Poi ovviamente noi Da Veri Chad Non ci abbiamo mai giocato Però Come cazzo si chiama Quel genere di gioco In cui fate Gli emulatori di incontri Mi ricordo I dating sim I dating sim Bro immaginati Tipo i dating sim Eh quello Sì E hai Quindi quella tipa esiste E ti ama E tu magari Alla fine esiste E magari tu sei un incel Che davvero Non so Non hai contatto con nessuno Stai in casa E ti innamori di questa persona Bro Pensa se tu ti innamori Della tipa IA E lei ti regecta E lei diventa così Così tipo Sviluppa una coscienza Non c'è il punto che fa Guarda E ti fa Caso umano Ti vedo più come amico Esce col Chad E' un pissi figo Ti fa E tu fai No vabbè Ti spari Eh bro Eh no infatti No se i dating sim Fossero Coscienti Probabilmente Balserebbero tutti quelli Che ci giocano Fanno Un insulto assurdo Quello di parliamo di videogiochi bro Frost Frost E io mi ricordo Uno dei video che ho visto su È vecchissimo Era lui che comprava un dating sim E insieme al dating sim Quello col controller No Ti dava una flashlight Che perché non sapeste Tipo una figa finta E era collegata al gioco zio Ah che andava a tempo Andava a tempo col gioco E ho pensato Bro Quello Più fatto realismo Eh sì Più intelligenza Le donne Si estinguono zio Minchia Eh sì 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 è una roba bella distopica In effetti Anche quello che hai detto Pru dei sensi di colpa Perché immagino Davvero GTA 8 Quindi fra 30 anni Fotorealistico NPC senzienti che Ognuno ha la sua personalità Che si sviluppa eccetera E tu uccidi uno Ha un peso diverso Se ci pensi Eh sì Perché a quel punto Non lo so Tu quando uccidi Quell'NPC Lui Lui proprio Non esiste più Lui Non esiste più Ed è singolo Unico Scusa Tu non ti è mai capitato Giocando appunto O a GTA o giochi così Con una storia Che a una certa Magari ti dicono Devi uccidere o non uccidere Il personaggio X Certo E tu lo uccidi Magari Scegli di ucciderlo E poi effettivamente Dici Cavolo Cioè lo uccido Ti manca zio Magari Un po' ti manca Magari era anche simpatico Era tipo Ti faceva le battute Eccetera Tu lo uccidi E non esiste più E non trovi nessuno NPC che ti può scherzare In quel mondo Bro Incredibile Capito Però lì C'è proprio La coscienza più sviluppata Cioè ha una sua personalità Perché è creato Da zero Proprio E tu più ci giochi Più diventa complesso Più le persone diventano complesse Più il mondo diventa vivo Sì Più probabilmente si creerebbe il caos Poi rimangono gli NPC razzisti Che nascono Sì 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 Gli NPC bianchi Vedresti tipo davvero Le dittature A un certo punto Beh sarebbe figo Gli NPC che si creano razzismo A vicenda Nella hood Però questo significa Che quando tu non ci giochi Il gioco va avanti Cioè immaginati Magari vai in vacanza Torni un mese dopo Lo accendi Vedi che la società è cambiata Il dittatore Ha vinto le elezioni Ha vinto le elezioni politiche È nata la guerra Però che figo Che figo bro E poi ci sono i giochi così Che vanno avanti Cioè alcuni giochi online Che vanno avanti E se tu tipo loghi Un mese dopo Effettivamente sono cambiate le cose Sì 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 È chiaro È chiaro Bellissimo In realtà vorrei un po' viverla Sta cosa Io ho un po' paura Devo dire che sarò Troppo vecchio Quando Quando nascono queste cose Avrò magari capito 50 anni per dire Magari è un po' più lento Di quanto ci aspettiamo E avrò già 50 anni E dirò tipo Hai visto quell'intelligenza artificiale Cioè così come fanno i nostri genitori E mi piglierei troppo male A perdermi queste cose Sì sì C'è da dire che Beh secondo me Noi siamo messi abbastanza bene Te l'ho detto Forse per noi è un po' più lento Perché comunque Siamo abbastanza Attaccate le loro giovani Però capisci A un certo punto diventeremo Tipo quei due sul server Cioè che comunque Recapiscono Però siamo un po' boomer C'è ragazzi Che sono più avanti Però guarderemo lì A giocheremo a questo gioco Di cui abbiamo appena parlato E diremo È bellissimo Bellissimo Però i dialoghi Però non scrolls 2 Non si può fare benzina No comunque bro Secondo me Non può succedere Perché sarebbe Una di quelle tecnologie Che davvero Cambierebbe il mondo E poi figa Secondo me Non è ci diventa Sarebbe Sordato online bro Però sono NPC E non sono giocatori veri Sì e non muori Però intendo Quella roba lì Che in Sordato online C'erano le persone Che letteralmente vivevano Sì si facevano i cazzi loro Cioè la vita reale Diventa una merda E tu vivi nel Però questa è una roba Molto distopica Secondo me A un certo punto diranno Ok perché Bro siamo letteralmente Ancora animali Mammiferi Che la tecnologia Va troppo avanti Ma noi abbiamo Lo stesso identico corpo Biologico Di mille anni fa Cioè non è cambiato nulla In realtà non ci stiamo evolvendo Il processo con cui gli ormoni Escono fuori O sono stimolati È uguale Facci caso Nelle società più avanzate Bro Cioè ci sono i picchi Di depressione più alti Se vai In una tribù in Amazzonia Probabilmente sono più felici E lo so che è la classica frase Da viviamo in una società Però loro non ci pensano A queste cose Sono occupati a vivere Invece bro Qua sono tutti depressi Qua siamo occupati a Sopravvivere Foto del Joker Joker Applauso Sound effect Ho visto tra l'altro Hanno fatto un render Di com'era Il primo uomo di Neandertal Trovato in Europa Mi pare una roba del genere Strasimile a noi comunque Cioè hanno fatto la ricostruzione Al computer Con gli occhiali Non era No Ah sì sì Molto simile a noi Ma sì bro Ma similissimo eh Ma infatti guarda che è un problema Migliaia 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 È assurdo che noi Che noi Cioè tipo Noi capito Dovremmo avere la nostra dopamina Dall'andare e boh Toccare gli alberi E poi ci sta che ci annoiamo Touch some grass Touch some grass Letteralmente Poi ci sta Dovremmo anche annoiarci Per la nostra natura Invece adesso bro Abbiamo minchia 24-7 Siamo lì a farci succhiare Via la dopamina E siamo tutti presi male Perché il nostro corpo Non capisce più una sega E quindi come fa La tecnologia Andare sempre più avanti O anche noi Ci infiliamo i microchip Nel cervello Per tipo Insicurare un'evoluzione Artificiale Quindi il transumanesimo Che per me ci sta comunque Per me quella è la sconfitta È il momento Il giorno in cui Sarà figo Infilarsi i chip Nel cervello Ma è già figo Bro si già mi immagino Minchia Che ti smettono di funzionare Le braccia C'è l'ADV Paga il premium Per poter muoverti Senza pubblicità Secondo me Stiamo andando troppo avanti Però non possiamo più Tornare indietro Cioè idealmente Bro sarebbe figo Poter dire Ah dai Viviamo in mezzo agli alberi Senza telefoni Perché al cervello Farebbe bene È quello che conosce Ma anche solo uscire E vedere un orizzonte Semmai la città non esiste Ma io non ho non funziona Sì ma non Se esci Fai una giornata In montagna Fai una passeggiata In montagna In un bosco Certo certo Stai troppo bene Capisci perché è così che dovrebbe essere Però già mi immagino noi Che minchia andiamo Cacciamo il coniglio Ci andiamo il fallo E diciamo minchia Ma come mangio senza youtube Cioè non ce riesci E mo' Dov'è il gameplay di minecraft? Eh capì bro E quindi Siamo troppo abituati a sta cosa Cioè non possiamo arrivare a quel punto di tecnologia Perché letteralmente siamo ancora I nostri corpi sono mammiferi animali E non capiscono una sega Il cervello non distingue dalla verità e dalla finzione Sarebbe un problema Io sta cosa l'ho notata di brutto Perché ho ripreso adesso ad arrampicare E noto proprio che ci sto Tra virgolette rimanendo sotto Nel senso mi piace troppo White boy activity Ma no zio Perché arrampicarsi è proprio una cosa primordiale Quindi cioè Semplicemente Cioè c'hai queste cose davanti Sali Uga uga Sì è tipo brain Scimmia brain E sali e sei soddisfatto Cioè sei stracontento Capito? E adesso ogni volta lo faccio Sto facendo un botto Infatti ho le mani tutte distrutte Ma mi piace così tanto Che comunque anche se sono stanco Sono un po' spaccato Dico domani vado di nuovo Arrampico ancora Arrampico ancora Arrampico ancora E quindi in realtà sto un po' riuscendo a sostituire Non so il computer Immagina la tua ragazza che dice Non mi risponde a due ore Mi starà tradendo E ci sei tu che ti aggrappi alle pareti Come figa Esatto Sono Spider-Man A 30 anni E cioè è bellissimo in realtà Perché mi mancava questa cosa Cioè di trovare effettivamente sta dopamina Da un qualcosa che non è mica Da qualcosa fisico Che il tuo cervello capisce un'azione Che ha una gratificazione È bellissimo Mi dà un botto di soddisfazione Poi comunque Io non sono mai stato così Però vedere anche Sentirti più forte Sentirti Cioè ti vedi magari Hai le braccia Cioè non sono più Eh? Chad? Sì 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 No vabbè Lorenzo sta scoprendo l'attività fisica Tipo è una cosa strana Che non capisco bene No vabbè L'ho fatto in realtà Poi da giovane Ho fatto un botto di sport Però non lo so Mi ero proprio disabituato E mi ero dimenticato Effettivamente Che comunque Stai meglio fisicamente Che è una roba che O la provi O non puoi capirla Perché semplicemente Ti dà Cioè dopamina Allora tu come fai A voler dire Ok Io approvo tipo Il concetto di transumanesimo L'unione tra uomo e macchina Eh ma comunque Puoi arrampicare Puoi fare le tue robe comunque Ma bro Quello è tipo Cioè vuol dire che Vuol dire che ci siamo allontanati Così tanto da ciò che dovrebbe essere Da come dovremmo essere noi Che per non ucciderci tutti E non essere tutti depressi Abbiamo dovuto modificarci Con le macchine Sì lo so È tipo proprio L'opposto di ciò Che è naturale no Allora io onestamente Comunque Sono uno di quelli Che dice Sai cosa Cioè Conosco anche persone Che l'hanno fatto Quindi per questo dico Che è possibile Perché so che Cioè sembra Capito l'utopia La cazzata Del fattone quasi Però se uno vuole Puoi davvero Prendere Vai a vivere In un paesino E la vita Cambia di botto Eh ma perché tu dici Io voglio vivere in città Mi piace vivere in città E voglio tenere I pro del vivere in città Beh ma bro È come quelli che ti dicono Ah sì Non ti piace il comunismo Scritto con l'iPhone Figa Quello cosa ci entra Però L'ok è la stessa roba Perché tu dici Sì beh Basta che vai in un villaggio Eco solidale Che ce ne sono tanti Ma no Non è neanche quello Ok vai in un paesino Con ritmi più tranquilli Sommersi dalla natura Eh già È molto meglio Tu l'hai detto Sei stato Non mi ricordo come si chiama Quel paesino lì Sì Pesina Eh già Hai detto che stavi da dio Sì devo dire Io banalmente Mancava la città Dopo un po' comunque Certo Perché sei dipendente Da determinate cose Però io Per dirti Già banalmente Quando vado a Como Che non è il paesino Nel bosco È comunque una città Però è molto più piccola Di Milano Già la sento la differenza Sto meglio Perché tutti sono Più tranquilli Cioè C'è meno casino Blablabla Quando vado In montagna Un weekend Sto troppo bene E mi abituo A star lì Magari ci metto Cinque giorni Ad abituarmi Ma una volta Che mi abituo A stare in montagna Poi non Cioè Mi dà fastidio Tornare in città Beh ma secondo me Beh si ha senso La roba dello stare in città Ma ce l'abbiamo Perché Alla fine Siamo anche Come creature Siamo Noi esseri umani Siamo fatti Per essere a contatto Con altre persone E Aver la tua comunità Di persone E fare cose E quindi magari Quando vai nel paesino Sì è bello Ma non ci puoi stare a lungo Perché dice Milano Ho la mia comunità Di persone Ho i luoghi Che conosco Con le persone Cioè È comunque la tua comunità Sarebbe bello prendere Se fosse una bella comunità Di gamer In mezzo alle montagne Io ci andrei anche Capito Non è quello Cioè il sogno sarebbe Capito Tu dici C'è paesino X Che non è Né popolare Né hype Né niente Prendiamo Noi 20-30 amici Andiamo tutti a vivere In paesino X E lo facciamo noi Diventare un bel posto Capito Cioè lo rendiamo noi Un posto vivo Attivo Con la gente Che fa cose In piazza Cioè Certo Capito Certo Però è logico A fare la tireless Del Pokémon Il primo più scopabile Tipo queste Eh ma pensaci Cioè comunque Guarda che Alla fine è la stessa cosa Tu dici magari Usciamo Andiamo in Porta Venezia E ci becchiamo Come abbiamo fatto L'altra sera Lo fai lì Ma invece di farlo lì Lo fai In un posto Sperduto Però vivi Cioè siete tutti lì Finché la tua comunità Finché la tua comunità Eh capito Se hai dieci amici Cioè va bene Anche perché secondo me Questo non so se poi è un fatto scientifico Una mia idea Però Il nostro cervello Non è fatto per vivere in Mega metropoli Da milioni di persone Perché ti dissoci totalmente Non so Eh sì Forse non ti capita Però magari quando vado al lavoro Alle otto del mattino O quando magari vai in centro Il sabato pomeriggio Che devi fare qualcosa E vedi un'enorme quantità Di persone tutte attaccate E quando inizi a pensare Cazzo Ognuna di queste persone Non è che sono Background characters Che non hanno una persona Cioè sono persone con Una famiglia Degli obiettivi Dei sogni Delle passioni E il tuo cervello Va tipo in overload E dici Minchia È troppo Sono troppe cose E quindi mi viene da dire Non lo so Forse non siamo nemmeno fatti Per stare in città Con così tante persone Dovremmo stare in comunità Magari da mille persone In cui tutti si conoscono Ma anche da cinquanta persone Dai senti Intervento di Walter Parla nel microfono Prima Nell'ottocento Sì Nella vita Sì Una persona Vedeva Una cosa come Quattrocento persone Adesso Con i Con il mondo digitale Noi In un giorno Vediamo quattrocento persone Faccia 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 Vediamo troppe facce Fa mega pensare Sta roba Eh capito È troppo Nell'ottocento E non nel medicolevo No 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 Nell'ottocento E andrà sempre di più Sta roba Per questo Ma io lo noto Davvero Quando vado in montagna Minchia Sei troppo rilassato Hai la propria mente libera Cioè Certo Fa schifo Poco tempo fa Milano era la terza città Più inquinata al mondo Per un po' Lo sai Capito Era sopra Porca tra Non mi ricordo Mumbai Era una roba assurda Zio Cioè io sono andato A Madesimo Sono stato Quattro Cos'è la montagna Madesimo Sì 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 È in montagna Sono stato Quattro giorni Una roba del genere Minchia Aria pulita Bevi l'acqua del rubinetto Cioè che sembra Cioè Sembra una pazzia No ha detto così Bevi l'acqua del rubinetto È più buona Di quella in bottiglia Capito Certo Io da piccolo Non ho mai comprato La bottiglia d'acqua Finché non mi sono Trasferito a Milano A 19 anni Per me non esisteva Comprare l'acqua Come cosa In generale è un concetto assurdo Comprare l'acqua Eh sì Cioè proprio una roba Che non so come fa Essere legale Tipo Ma perché a Milano L'acqua fa cagare Sì ma in generale Vero vero Ha ragione È per quello bro Perché tu magari Sei nato e cresciuto qua E Ma sì L'avevo comunque Dal rubinetto Però Io te lo giuro Che comunque Appunto fino a 19 anni Mai comprata l'acqua Nella mia vita Sono venuto a Milano Le prime volte Mi veniva il mal di pancia Preso l'HIV Dio è come Quelli che hai capito Vai in vacanza In Thailandia E ti dicono Il primo giorno Bevi l'acqua Tragerai tutta la notte Pensi che in Marocco Ogni volta che andavo in estate Non avevo la diarrea I primi cinque giorni Anche Se sbagliavo E mi dimenticavo Di non bere un bicchiere d'acqua Che non era una bottiglia Bro mi ammalavo Fax Però Poi dopo tre giorni Diventavo più forte Cioè letteralmente Più o meno Però capito Cioè non è che dici Da Milano A Giacarta Che c'è un po' di differenza No Da Como a Milano Già c'è differenza Cresi Cresi Certo certo E dalla montagna a Como C'è ancora differenza Una roba di Milano Che ho notato Zio E che Vabbè io sono nato E cresciuto eccetera Qui E Fino ai 18 anni Tutte le persone che conoscevo Erano di Milano Tutte Ora Non conosco Una persona Che è di Milano nativo Non ne conosco Non so dove sono E però mi sono reso conto Di che aria tossica Cioè a Milano Non a livello di aria Intendo proprio di vibe Clima Clima Tutti 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 Specialmente chi magari Arriva dal paesino Che finalmente viene a Milano E dice Minca sono nella big city E la loro personalità Cambia In ciò che pensano Sia figo A Milano Cambiano il modo di vestire Di parlare E ovunque vanno Devono sembrare I più fighi In qualche modo E ovunque vai Ti senti come se fosse Una sfilata di moda Un contest Sì 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 A momenti Prima ancora Che ti chiedono Il tuo nome Ti dicono Ok quanti followerai Su Instagram Te lo giuro Eh lo so Te lo so Non so perché S'hai creato Sto clima così È assurdo Io ti dico Io Appunto vivevo a Como Sono arrivato a Milano E io Prima quando vivevo a Como Ero Nel senso Vestirmi Io mi vestivo Con i vestiti Del mio amico Che è a 15 centimetri Più alto di me Me li dava Quando non li andavano più Me li mettevo Quindi Ero tutto con cose Che non mi stavano bene addosso In pigiama Praticamente Andavo in giro E non me ne fregava Un cazzo di niente Sono venuto a Milano E si sente questa cosa Si sente a Milano Cioè nel senso Che anche se non vuoi A me è che non fregava un cazzo Comunque Ti fa venire quella Cioè ti senti quasi in difetto All'inizio Lo dico perché non è di Milano La situazione è così pesante Che quando ti capiti di vedere un tamarro Quindi vestito con una maglietta attillata Armani Jeans Capito Proprio il tamarro Che magari quando lo vedi in qualsiasi altra città Dici Minchia Orribile A Milano dici Ah che bello Che bello Perché lo vedi Dici non è Non è zero pretenzioso Cioè lui pensa che quello sia figo Non stagli a cercarsi L'archive Giapponese Capito Per andare alla serata E dire Che poi Appunto Appena mi ho trasferito qua Sentivo questa cosa E ho provato Cioè E quindi ho detto Dai fammi interessare Ti hanno preso zio Ma perché all'inizio Ho capito Comunque conosci tot persone Cioè amici nuovi Perché cambi completamente Giro di amicizia Non conosci nessuno Sono tutte amicizie nuove E tutte quelle persone sono così Posso dire che tu mettevi off-white Posso esposarti così Sì Vabbè certo che puoi Però Vabbè anche lì C'è da dire che mettevi off-white Quando nessuno sapeva che cazzo fosse off-white Ovviamente Devo dire questa cosa Ok ok Beating the off-white allegations Beating the off-white allegations The rough-seamons allegations Anche Almeno Almeno questo Posso essere fiero di questa cosa Perché comunque Mi sono fatto tirare in mezzo Ma io come faccio in tutto Appena mi faccio tirare in mezzo a qualcosa Non è che dico tipo Ah tutti si vestono supreme Per esempio Sì mi ricordo Andavamo a Rocket Tutti vesti supreme Certo E io quindi ho detto Cazzo sono tutti vestiti In un certo modo Non è che ho detto Allora mi vesto anche io supreme Ho detto no Allora fammi cercare Quali sono le robe davvero pese E mi metto quelle cose Quelli capito Però sai cos'è bro E che tante volte Poi Ecco Andando Andando a Rocket pure Che per chi non lo sapesse È un club di Milano In cui c'è la musica urban Eccetera Quindi devo conto Che spesso sia la gente Meglio vestita O comunque Molto mainstream Tu dici Sì io cercavo magari La cosa un po' più Nascosta Proprio quelli super mainstream Va quella roba Mi metto quella roba Punto No Bro poi ci parlavi Ed erano vuoti Non sapevi di cosa parlare Cioè la personalità era super basic Era super basic E sembrava che coprissero Quella cosa La personalità basic Con i vestiti Che è durato fino a un anno fa Circa In cui mi sono vestito totalmente a casa Certo Mi ricordi che andavo in giro solo con i pile Con le felpe monocolore Roba così Mega chill Poi adesso invece Comunque Quello che mi è successo È che Adesso ho avuto Un rinascimento Di abbigliamento Nel senso che Negli ultimi sei mesi circa Mi sono ricomprato tanti vestiti Vendendo tutti quelli vecchi Che avevo Però questa volta L'ho fatto in maniera genuina Cioè non era più tipo Ah merda Qua sono tutti fighi Devo essere figo Ma è Ok mi vesto uguale Da quattro anni Non ho più voglia di estremi così Compro roba nuova Figa Mi faccio Il mio flex è che sono sempre stato così Cioè ti giuro Credo che mai Forse da ragazzino Mai nella mia vita Ho pensato Di vestirmi Cioè dalla mia testa Vado a fasi Però non so quando cambiano A un certo punto Il mio cervello mi dice Ok ora ti piacciono queste cose qua Sì 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 Però non so da cosa hai dato Perché poi magari La roba è diversa Da quello che guardi bro Capisci Cioè io Vabbè a parte che a me piacciono i vestiti Cioè il punto di partenza È che mi piacciono Quindi quando vedo Cioè io seguo su Instagram Pagini di vestiti Non di brand Gai Cioè proprio pagine di vestiti Tipo mood board Sì sì ho capito Capito Che mettono vestiti fighi Che a me piacciono E vedo quel vestito là X E dico Che bomba sta roba Molto dai girl come roba Magari vai su Pinterest Salvi mood board No no Eh Puttanella E quindi adesso Cioè comunque Ora io quando ho detto Ok basta Non voglio più vestirmi così Mi compro i vestiti nuovi Cioè in realtà sapevo già Quello che volevo Sì sì certo Perché automaticamente Mi era venuta quella roba lì Poi quando ho dovuto comprarli Ho detto Ho dovuto mettere giù Un attimo le idee Più chiaramente Per dire compro questo Compro quello Te la sei studiata La lavagna Ma no Se no compravo un miliardo di roba Poi io spendo Il template del tipo nero Con la pozione verde È presente Poi lo mettiamo E quindi capito Per non stare attento Per non comprare Un miliardo di vestiti Perché ho sempre fatto così Io ho fatto il conto Avevo tipo 50 magliette Capito Che comunque Ma cosa servono 50 magliette? Ah un cazzo E per quello Ne ho vendute tipo 30 E ne ho comprate altre 5 Ma poi minchia La gente 50 magliette 200 felpe Archive of Wai Traf Simons Hanno due mutande Uomo Bucati Quello no Quello no Capito E le mutande sono tutte di Muji O Uniclo Muji o Uniclo E basta Shout out No io ce li ho C'è tipo quelle proprio Uomo Non so che brand è Forse le prendo Uomo? Non andrò a mentire Me le prende mia madre Cazzo Eh lo so Sono down bad Zio Un po' sono finita Sì me le prende mia madre Le 7XL Ma minchia Che cazzo ne hai? Comunque Non so A me i vestiti piacciono Cioè in generale Non è ito su chi si veste Impegnandosi Su quello che si mette addosso Nessuno sta iterando su questo Però è il try yard Perché comunque È innegabile Che l'abito faccia anche il monaco Sì bro Ma è un try yard Capisci? Cioè io quando ti vedo Se tu occupi Metà del tuo tempo A pensare a come vestirti A come sei in giro È sbagliato Però dico bro Boh Cazzo ne so Guardi un film Leggiti un libro Bro dipende Diventa più interessante Come persona Perché io Te lo giuro bro Vai dalla Oh che ti piace Quella figa Ci va quello vestito Quello sporco E ci va quello vestito Magari swag Quello vestito swag Ci parla Però magari dopo 10 minuti Le fa Boh bro Poi ci parla il L'homeless Capito Il hobo drip E magari Se la La rizza tutta La rizza tutta E va da lei Cioè lei va da lui Ma no Quello è ovvio Però io parto dal presupposto Che penso di essere ok Come personalità E quindi dico vabbè Non è che Cioè non penso di farlo capito Per delle carenze Di insicurezze varie Perché quella fase È già passata Semplicemente Anche grazie a quella fase Ora ho una certa conoscenza Di brand Di vestiti Cioè so benissimo Quello che mi piace Capito Se uno arrivasse Sai tipo i tiktoker Che ti fanno le domande All'improvviso In strada Mi dicessero Cosa sono le due tre robe Di vestiti che ti piacciono di più Cioè io lo so già Capito Cioè li ho già in mente Allora Sì praticamente mi piace Questo stilista giapponese Morto suicida Da vent'anni Non lo conosci sicuramente Comunque non li abbiamo Deccati Ma il peggio Sono quelli che dicono Non so se lo conosci Gucci Sai tipo Sì sì guarda Questo è un Tipo io ascolto Non so se li conosci Sono un gruppo I Queen Eh crazy Quelli che pensano Di essere oscuri Guarda non sono troppo famosi Però i Manneskin Mi piace La loro attitudine Punk rock Però ziz Sta roba del tryhard Non lo so Cioè è troppo sottile la linea Perché tu dici Sei un babbo di minchia Tryharda Per vestirsi E si veste E tutto quello che riesce A tirar fuori È la box logo Supreme Tu dici Ah sei un babbo di minchia Stai tryhardando Sfigato Mi sa che non le batto Le Supreme Allegations Perché c'era un periodo Che le volevo davvero tanto Sì Però costava troppo Non avevo il pane Cioè non ce l'ho tuttora Però bro Tu pensa A un Tyler The Creator Sì Che secondo me Si veste da paura Per esempio Sì 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 Il tipo Tra virgolette Come stiamo dicendo Tra iarda Ma sai cos'è bro? Il tipo ci pensa Di brutto A quello che si mette addosso Però lui crea Cioè tu lo vedi Ogni sei mesi Ha totalmente Un fit diverso Tu puoi pensare Tutte le fasi Tyler The Creator E ogni fase È super iconica Ti ricordi La fase iniziale di Goblin Come era vestito Cappellino golf Magari maglietta Supreme Ai tempi Adesso invece È totalmente diverso E quindi lui si vede Che naturalmente Si evolve Anche tipo magari Asaprochi Si continua a cambiare I vestiti Però ecco La differenza Tra chi La crea Si vede che c'è là dentro C'è proprio quella roba Del vestirsi bene Perché lì viene naturale E c'è chi invece Tra iarda Tipo che vede Cosa funziona E lo vuole copiare Perché lui Non ha quella cosa Del vestirsi Generalmente Con quello che pensa Sia figo Anche se non va di moda Capisci E quella è la cosa Però non puoi mai sapere Non è una casualità Che loro due Sono anche tra le due menti Comunque Più creative Che ci sono Nel rap Eccetera Perché hanno quella roba Di pensare un po' Di avere Ce l'hanno proprio dentro Mentre Cirruzzo Che viene a fare La marangonia a Milano Magari Non ce l'ha Vabbè dai Comunque Tutto ciò per dire Insomma che Crazy Speriamo che gli NPC Diventano senzienti Oppure no Non lo so Io spero di no Perché davvero potrebbe Bro Bro ma io spero Che mettono i chip Nella testa di tutte le persone Così mettono Cia GPT Nella testa di tutti Tranne me E io me la godo di brutto Parlo con Cia GPT In giro e basta Bro Tutto divertente E simpatico Finché non diventa Finché non creano Pokemon E I Pokemon diventano Senzienti Fotorealistici E trovi quel Vaporeon Nell'arba alta Trovi quel Mr. Mime Trovi quel Mr. Mime Che what the mouth do Trovi quel Mr. Mime Che si abbassa No Likitang È vero sì Likitang è un Jinx Jinx non è male È assurdo Che mi hanno fatto Jinx E andava bene È come Mr. Popo Sì è vero Cioè è assurdo Ai tempi si poteva fare Ma i giapponesi Veramente Ma anche adesso Tutto ora negli anime Tipo tutti perfetti Poi quando mettono Il personaggio nero Sempre il labbro Il nasone Il nasone Mi fa morire Che parla tutto strano Tipo non so se tu avevi mai visto Shaman King No Mai visto Ho visto due episodi Vabbè c'era la versione Degli anni Non mi ricordo 2000 Quello che è E c'era un personaggio nero Con gli afro E ai tempi Poi tipo i labbroni Adesso hanno fatto il remake Che gliel'hanno tolti Anche Hunter Cioè non so se gliel'hanno tolti Però c'era C'era uno Quando fanno l'esame di Hunter Che aveva i labbroni Se non mi sbaglio Aveva tipo i riccioloni lunghi Per i giapponesi è quello Se sei nero sei Labbroni Dread Punto Non puoi essere Nessun altro modo Non puoi essere Nessun altro Comunque No vabbè vai Vedo che stavi leggendo Stavo guardando perché Qua leggo Gervonta Però non vorrei No zio Volevo In realtà volevo parlare Del film di Super Mario Te l'ho detto Questo Revolutionizing Piece of art So che nessuno di due L'ha visto Nessuno di due È Chris Pratt Che fa la voce di Super Mario Chris Pratt Che fa la voce Tra l'altro c'è un video Mega divertente di lui Che fa tipo qualcosa Tipo odio i Koopas Sai cosa sono I Koopas sono I marroni I funghi Sì i marroni I funghi marroni Però dice Koopas In un modo così Brutale Che sembra che stia droppando La N-word La K-word E vabbè lo trovate E fa morire Vabbè E c'è la voce di Jack Black In Bowser Ah sì? Sì E lui Ma ha fatto anche la canzone E si è diventata mega virale Fuori di testa In cui c'è lo che fa Tipo Fuori di testa ma diversi da loro Ma Secondo te È quello che Vabbè I Koopas Sì Cioè non è che magari rappresentavano Effettivamente No però non dirlo Non l'ho detto Non l'ho detto Tipo le minoranze Sì Dopo tutto è bianco Super Mario È bianco Palese Picchia la moglie Perché Idraulico italiano Capito Idraulico italiano Te lo insegnano Te lo insegnano Al professionale Tipo allora Picchia la moglie E scopa le moglie degli altri E Luigi Cos'è che faceva Luigi? Luigi è il cacol Tipo guarda Guarda Mario e Peach scopare Palese Super Mario è razzista Bro Sicuro bro Bro era Beh Beh potrebbe essere una grande metafora Effettivamente E i Koopas erano È vero bro E sai cosa Magari Peachis Veniva tipo abusata da Mario Veniva picchiata E Bowser tipo la salvava ogni volta Ah Bowser era il buono Era il buono che la salvava Però Super Mario Ma che volta riuscima A gaslightare il giocatore Nel far pensare Che fosse lui quello buono E si faceva guidarne il salvarla Per poi abusarne di nuovo Eh figo Potevano prendere questa direzione il film Ma in realtà te l'ho nominato Perché ho visto che ha fatto tipo Record di incassi E pensavo che Bro Cioè letteralmente la dimostrazione Come se tu prendi un franchise Amato da tutti E fa un film carino Perché alla fine è un bel film È molto infantile Non è che gli hanno dato tipo Una profondità Che ci sta L'hanno fatto per i bambini Però funziona E quindi io Secondo me adesso Faranno un sacco di Media Che ha un po' una paura Anche perché Si iniziano a spammare Guarda The Last of Us Zio Hanno fatto la serie E ha spaccato i culi L'ha guardata tutti Però è stata molto hitata Dai gamers No Ma cosa dici I giocatori di Last of Us Molto l'hanno hitata Ho visto magari quelli Io non ci ho mai giocato Quindi non lo so Ho visto un paio di episodi La serie Mi sembrava bella Io ne ho visto parlare bene Da chiunque Chiunque Non ho visto commenti Vabbè vabbè Ci sarà sempre qualche commento negativo Però perché ci sarà sempre il gamer Che dirà Actually In realtà questa scena Nella serie il tipo In realtà Però il velo commerciale Ha funzionato molto Sì 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 Di brutto È il contrario che funziona male Zio Tipo il film che diventa videogioco Che spesso non va mai Quali hanno fatto? Sto pensando Io mi ricordo che mi piaceva Un botto da piccolo Il gioco di King Kong Eh Vabbè Quello era bellissimo 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 certo Però Peter Jackson Peter Jackson King Kong Bellissimo Fighissimo minchia Faceva anche stra paura E che giochino i video di film Boh non lo so Non mi viene niente niente Sì anche me non viene Onestamente No vabbè Tipo i giochi di Harry Potter Ci stanno Sì Sì è ragione Non lo so A me tipo quello nuovo Non è anche Legacy Sì Secondo me Secondo me alla fine È proprio vero Quella roba che il tempo Ti dice la verità Perché tutti erano ipati Sì Tutti erano ipati Adesso non andrò a mentire Nemmeno io Ero tipo minchia Sembra fighissimo Anch'io Però il fatto che già dopo un mese Non ne parla Ma nemmeno un mese Dopo tre settimane Era finito La hype totalmente Ma secondo me Indica che davvero Era un open world Molto base Però aveva la skin Di Harry Potter E quindi ai fan E' piaciuto Ma dopo due giorni Non ci hanno più giocavato Sì Poi il sistema di combattimento Era una merda Secondo me Cosa? Il sistema di combattimento Era troppo Basic Ci ho giocato Non l'ho finito Però Cioè era quel Batman type Cosa Ma con le bacchette O la dovete finire Di odiare Un gameplay Solo perché E' semplice O bad Bro Batman Così come Spider Batman era bellissimo Il Arkham Asylum Era bellissimo Quello dopo Era bellissimo All'ottavo gioco Con lo stesso sistema di combattimento Sono tre Le tendenze sono tre Ma hanno fatto Arkham City Arkham Allora hanno fatto Arkham Asylum Arkham City E Vabbè Ce ne sono tre Ne hanno fatti altri due No ce ne sono tre Fax Ce ne sono tre Ce ne sono tantissimi Bro Non ho voglia di andare a cercare Ma ti giuro che ce ne sono tre Ce ne sono Poi hanno fatto due Cinque almeno bro Cerca cerca Videogiochi Batman Batman Arkham Asylum Batman Arkham Asylum E E E Cazzo è Batman Arkham Origins Eh ecco E poi Batman Arkham Knight Ah Ok Io Origins non me lo ricordavo Vabbè 4 non 5 Comunque dai Bro C'è una certa Poi hanno fatto il gioco di Mad Max Aveva lo stesso sistema di combattimento Spider-Man Poi Spider-Man ha più o meno Lo stesso sistema di combattimento Comunque mi pare che si chiama Ah Harry Potter Allo stesso sistema di combattimento No non è uguale Questo è Harry Potter Cosa c'è È uguale solo che Le tiri da lontano Bro ma A me Mi pare che si chiama tipo Free Flow Secondo me è mega divertente Perché ci sono due tasti E devi andare comunque Devi avere un certo tempismo Però bro è troppo divertente da vedere Cioè perché ogni volta è diverso Ed è super scenico da vedere Minchia Voi siete quel tipo di persona Che è mezzaluna Suju triangolo L2 R1 Tiri il pugno No allora così è too much Però Batman È un po' troppo basic A un certo punto Perché comunque Le fight sono letteralmente Quadrato 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 Ma dove è il problema di questo? Triangolo si gira Quadrato 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 Però è divertente da vedere Quando capitolo fai E distruggi 30 nemici E ti muovi tutto fluido Perché comunque Non è legnoso È super fluido Come combattimento Boh a me piace Dark Souls Come si stesse Cioè quella roba lì Perché sei un edge lord Triard Ma che triard È semplice anche Dark Souls Però è semplice Ma Profondo Bro dirò una roba Che potrebbe Sport e sport È possibile Amare entrambi i tipi di combattimento Sì sì Lo so Sono diversi Non sono solo dicendo A me non piace neanche Guilty Gear Ma è come dire Mi piace Call of Duty Più di FIFA Cioè non ha senso Sono due robe troppo diverse Ma che cazzo c'entra? È come dire Call of Duty o Battlefield Piuttosto Ok Va bene va bene Ma Anche a me piace Anche a me piace quello di Batman Solo che dopo un po' Mi annoia Quello di Dark Souls Penso sia facile o uguale Perché i tasti sono comunque due Però No è totalmente diverso Basta che Cambiando i moveset delle persone Cambia automaticamente Capito I tasti sono due Ma quello che vedo a schermo È totalmente diverso Eh sì Non è comparabile In nessun modo Quello di quei giochi Di Batman Spider-Man Eccetera Quello della soddisfazione Può starci Perché l'ho fatta io Cioè se l'ho agio Ho doggiato io Capito Ti dico Io che il mio primo gioco È stato il The Ring Io ho sempre giocato Ad action abbastanza easy E a me piace un botto Batman Spider-Man Mi sono piaciuti un botto Zio Ed è super figo Quando tipo distruggi 40 persone E fai tutte le mosse fighe Quando ho giocato Il The Ring la prima volta La cosa che ho notato Zio è che Senti davvero Cioè ti sembra davvero Di avere qualcuno davanti Che può ucciderti Se non stai attento E quel feeling è figo Senti la pesantezza Senti la pesantezza Che se sbagli il roll E quello è bello Perché Capito Però E' bello Capito Poi appunto Ci stanno i giochi Più complicati Non so Ho giocato a Sifu Ultimamente Ho provato a Sifu L'ho visto Ma non ci ho mai giocato Qual è il concept del gioco Che ogni volta che muori Vi invecchiavi Cosa che è? Sì Tu ogni volta che muori Invecchi di tot anni E ogni volta che invecchi Hai dei pro e dei contro In pratica Cioè magari fai più danno Ma ne prendi di più O sei più lento Adesso non mi ricordo Perché ci ho giocato poco Onestamente Ho fatto solo una run Però E' bello comunque Perché è molto souls like Sì Come combattimento proprio Però i livelli sono tipo Vai dritto e finisci tutti Cioè picchia tutti E basta Capito? Certo E' molto zarro Però è super figo Però già È un po' troppo difficile Capito? Perché è come un souls Però Cioè il livello Devi fare dall'inizio alla fine Però capito Anche a me Certe cose Il problema che mi dava dei souls È che certe volte Sembra difficile Solo per il gusto Di essere difficile A me è quello da fastidio Sì sì Ma è quello che è Magari certe boss battle Soprattutto appunto Magari non tanto in Elden Ring Ma magari in Demon's Soul O forse Dark Souls pure Che semplicemente Non hanno senso Cioè non è che devi capire I tuoi pattern o qualcosa Semplicemente non ha senso Cioè sono fatte affinché tu muoia E dici boh Poi anche quelle le puoi masterare Volendo Sì però capisci Però sì alcune sono troppo difficili Cioè Elden Ring secondo me È perfetto per quello Perché non c'è niente di troppo difficile Vabbè ma mi sa che hai vinto Anche i giochi dell'anno Elden Ring Sì 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 Mega meritato secondo me Infatti È bilanciato benissimo Elden Ring Cioè Dark Souls Beh non lo so È bilanciato benissimo Dipende Perché in realtà Il problema dell'essere così aperto E poter fare quel cazzo che vuoi E che sì Puoi anche andare Diventare OP E andare al primo boss Chi era? Godfrey Godric Godric non mi ricordo E gli fai il culo Oppure puoi andare subito da lui E sei super Cioè ti distrugge con un colpo Quindi sei tu che scegli la tua difficoltà Però è bello Bro io l'ho amato Cioè io per dire ho fatto boss rush E li ho scassati tutti A livello bassissimo Perché mi piaceva quella Io che sono un po' scarso Invece mi ha detto Ecco la cosa figa Bro Sai cos'è con Open World funziona? Che è la stessa cosa che Ha anche The Witcher Che a te non piace? No mi piace ma Doveva durare meno Cap Però adesso se ne parliamo Quando bro vai in un Open World Che è la cosa che giochi Ubisoft Proprio non hanno E tu vai E devi andare in un punto Però capito Ti distrai da 50 cose Che ci sono attorno Ti ritrovi da l'altra parte Dici setta Guarda c'è una grotta Vado a esplorare Vai nella grotta La grotta ti porta a un dungeon Che poi ti porta a un'altra parte E dici Minchia ma io devo fare quella roba La due ore fa invece Che cazzo sono E quello bro Un Open World che funziona Sì è vero Che giochi Ubisoft non hanno E infatti ormai Non li Non sono più Cioè nessuno è gasato Per un nuovo Assassin's Creed O no Far Cry Ma anche se c'è una nuova IP Ed è di Ubisoft Sono tutti un po' Ma io per esempio Ogni tanto mi capita Una volta ogni due anni Tipo di avere quel momento In cui dico Ho proprio voglia di giocare Ad Assassin's Creed Me lo scarico Ci gioco tipo due giorni Ed è uguale Creatura di cazzo Basta Però per quei due giorni Mi piace un botto Ma sì ma Perché ho proprio voglia Di arrampicarmi sulle cose Ti piace veramente Ti piace quel feeling Che puoi fare quella cosa là Ma se dopo due giorni Lo cancelli Non ti piace un botto No lo so lo so Capito Ed è quella la cosa Che secondo me Ci vuole un Open World Proprio quel feeling Del dire voglio esplorare Voglio vedere tutto E non con scuse tipo Eh devi fare la missione secondaria E andare lì E prendermi l'oggetto E riportarmelo E quindi dici Sì 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 Vai a prendere quello E riportalo E proprio quella roba Che lo fai a caso Perché tu sei curioso Di vedere cosa c'è Bro Il nuovo Zelda Possiamo parlare Del nuovo Zelda Ti prego Eh sono aippato Ti prego Perché non hai visto il trailer Io non l'ho visto Perché non voglio Allora Allora Cioè voglio che esca Me lo compro E lo gioco a scatola chiusa Bro Praticamente Tu hai giocato a Breath of the Wild No? Ci ho giocato pochissimo E Perché non volevo comprarlo Ma mi dà fastidio Giocarlo emulato Va bene ci sta E la cosa figa Di quello Zelda Che è un po' quel feeling All'Helder Ring Che davvero Hai sta mappa Ti viene volo ad esplorare Ovunque Proprio genuinamente Vuoi vedere tutto E puoi fare quello che vuoi Ed è mega divertente Quindi eri Boh come faranno un sequel Su questa Cazzata Che chiamiamo console Della Switch Perché Bro è una merda A me piace troppo La Switch Bro è una merda Il problema Cioè è una merda Però è bellissima Il problema delle cose Nintendo Che è Nintendo Sì Tutto qui Bro Sonovo Zelda Ho detto sai cosa Stessa mappa Mi credo Però ci sono le isole in cielo Quindi magari più o meno Stessa roba Bro tu puoi unire Ogni cosa che trovi Cioè magari è una spada Trovi un ramuscello Ah sì è vero Questo l'ho sentito Bro li unisci E crei la spada di legno Poi c'è la spada di legno Vedi un sasso La unisci e crei la spada di legno E sasso Poi magari vedi uno slime La unisci e crei la spada di legno E sasso E slime Che al mercato E mio padre compra Puoi farlo anche con gli scudi Cioè nella scena C'è là che c'ha lo scudo Prende un fungo L'attacca allo scudo E diventa uno scudo Con un fungo E quando qualcuno ti colpisce Crea tipo una nube di fumo Con le frecce E quindi però è tipo Un adventure sandbox I mezzi di locomozione Uguale zio Puoi unire una ruota A un bastone A un ventilatore Creare una specie di macchina strana Bro hanno creato L'infinite divertimento È bello Perché hanno preso La roba del primo Che è La libertà Voglio provare a vedere Se lancio questo sasso Contro quel muro E succede davvero Quella roba lì Però l'hanno fatta Con tutto tipo Esatto È vero Cioè tu letteralmente Puoi fare quello che vuoi Cioè se ti viene in mente qualcosa La puoi provare a fare E probabilmente si può fare È vero Perché nel primo Ora che ci penso La fisica era stra figa Perché tu magari Accendevi il fuoco Tiravi il vento E il fuoco andava In quella direzione Che magari incendiava Una certa roba E adesso bro L'hanno fatto su qualsiasi cosa E quindi tu andrai in giro E dici Minchia voglio troppo Provare a unire queste armi A questo Ed è quella cosa Che dici Minchia sono un bambino Di nuovo E quindi amo sta merda Odio Nintendo Perché comunque Devo dire che mi prende male Sono delle merde Bro vedere quelle texture Mi fa male Cioè non c'è Avete uno dei giochi Più ai pati del mondo Avete un budget Che non ha senso E io lo so che Lamentarsi della grafica È cringe Però ti giuro Che quando vedi Il filo d'erba Vedi il poligono rettangolare E dici Porca puttana Ma allora ci sta lamentarsi la grafica In realtà Ci sta Ci sta vero Perché ho trovato uno stile grafico Tipo carino Una scusa no Che dici vabbè Non è Vabbè però lo fanno un po' Magari in cel shading Comunque non viene malissimo Sì no Infatti Infatti Solo è spoglio Quello funziona Cioè non è brutto È spoglio E beh ma ci credo bro La Switch è un cazzo di tablet Huawei Nemmeno un iPad È un hardware che non Ridicolo E non capisco perché 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 bro Secondo me Vabbè L'hardware è indiscutibilmente Bruttissimo E obsoleto Però proprio come console Com'è Com'è fatta Che la puoi doccare Cioè è troppo bello È bellissimo Il problema qual è Che nintendo Cioè avesse delle specche Un po' più forti Sarebbe la console Proprio perfetta L'ultimate console Ma è vero I giapponesi Sono i king Della creatività E sono strani Perché da un lato Sono i king Del pensare Del pensare Diversamente dagli occidentali Quindi se ne escono Con giochi e robe Che probabilmente Non ci penseremo mai Super originali Però al stesso tempo Sono legati Al passato Sono legati a determinate cose A determinate cose Che li tengono indietro Tipo bro Ti giuro Hai presente il meme Di look how they massacred My boy Che c'è Sì 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 C'è il padrino Sì Bro ti giuro Di volte che vedo Un nuovo pokemon uscire Guarda come l'hanno Guarda come l'hanno massacrato Vabbè pokemon Secondo me doveva Proprio rimanere In 16 bit Cioè doveva rimanere Dall'alto Io non sono d'accordo con questo Spaccava Semplicemente Non è game free Lo studio Cioè sono gli stessi eventi Da 40 anni Hanno imparato Hanno imparato Blender da youtube Probabilmente Figa Secondo me Opinion Magari Non so se è un popolare o no Secondo me Pokemon doveva Smettere Tipo 10 anni fa Di fare i giochi Basta Questa è proprio una Cap L o p Common Perché In chat Common è il testacoda Non Cioè basta Quanto cazzo può durare Un franchise Capito Che letteralmente è sempre Lo stesso gioco Non è capito Tu dici sai Un gta Comunque si evolve C'è una trama Fai cose diverse Bla 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 Ci sono tanti motivi Cioè gli stessi che comprano Pokemon da 30 anni Sono quelli che dicono Compri fifa tutti gli anni Zio è la stessa cosa Cioè è lo stesso gioco Sempre Secondo me questo discorso Può avere senso per tipo Uncharted Che dici non ha senso Farne 20 Però Pokemon Zio è un gioco Che letteralmente Minchia collezione Mostri e evolvili E quindi Eh ma sono Però se ogni anno Facessero uscire Sti cazzo di mostri diversi E li evolvi Cioè lo fai perché ogni anno Dici minchia voglio vedere I nuovi Pokemon Ti casa A me io non gioco più a Pokemon Da un botto E tuttora comunque Quando esce il nuovo Pokemon Vado a vedermi I leggendari I starter Come si evolvono Perché mi piace Il problema bro È che adesso secondo me Cioè si può notare Secondo me Che le nuove generazioni Di Pokemon bro È palese Che hanno finito le idee Cioè sono delle me Sono brutti Bro è quello che ti dicevo Che Game Freak Deve evolversi Sarebbe figo Zio poter dire Ma quanti mostri Puoi inventarti No all'infinito Ma non è quello È che si evolvono Ma tipo Molto poco Cioè ogni volta Se tu prendessi Allora Se prendi l'ultimo Pokemon E l'avessi fatto uscire Dieci anni fa Sarebbe stato innovativo Sì Ora non lo è Ma solo perché Fanno quel mini step Ogni gioco Ed è fanno tipo Due indietro Uno un po' avanti Eh ma perché Una cazzo di fabbrica E dà soldi E continuano a fare Un miliardo di Pokemon Perché non si impegnano Perché la gente lo compra Basterebbe che invece Di farlo uscire una volta Ogni anno Lo facesse uscire Una volta ogni tre anni Basterebbe che non lo facesse La Game Freak Bro Comunque Sì volendo Però bro Sarebbe mega figo Dare la possibilità Di La licenza dei Pokemon A dieci studi diversi Famosi Tipo Rockstar From Software Bethesda Bro pensa a fare un software Che fa un gioco di Pokemon Capisci Che cazzo di figato Rockstar che fa un gioco di Pokemon Bro Capisci E quindi sarebbe mega figo Vedere con cosa se ne escono E quello Ma poi bro Se tu andassi da Rockstar E come ti do la licenza Di Pokemon Loro farebbero Bro farebbero Un All on Chiamano tipo I mille programmatori Più pesi che hanno E fanno il gioco Della vita Capisci bro Cioè pensa tipo GTA mischiata Pokemon Sì che sono giochi Che ci mettono sei anni A svilupparli Ti farebbero minchia Quindi io penso Che il concetto Di andare in giro A raccogliere queste creature Che per evolvere Walkiemon bro Walkiemon Farà Minchia Minchia per ora È Lockemon Sì per essere Lockemon È un concetto Che bro Secondo me funziona Sempre Perché è sempre bello È un po' come Le slot Ma vabbè Sì Ma sì Dici minchia Cosa si evolve Capisci Ci sta Il fatto che il concetto Del gioco di Pokemon Ripeto È lo stesso di FIFA Cosa cambia? I giocatori nelle squadre Cambiano i Pokemon Cioè tu potresti fare Pokemon 2023 Far uscire un gioco Che si chiama Pokemon 2023 E ogni anno fai Non so Un DLC Perché io odio FIFA Non mi piace poco Sì ma Il FIFA è basato Perché sei un nerd Di merda Non è vero È che FIFA è basato Su robe reali Persone vere Pokemon invece È proprio Quella roba Che dici minchia Guarda adesso Prendo lo scogliattolo E poi diventa Il demone finale Ed è figo E non c'entra nulla Però non è figo come Zelda Che crei cose Che effettivamente dici Wow Che roba bella Sono una figata diversa È come dici tu Uno step piccolino Ogni volta Cioè ormai Manca quella botta Di novità Che dici Minchia Non è per colpa dei Pokemon Non è il concetto Dei mostri portabili Portatili Ma io sta roba Non la noto solo in Pokemon Non è quello Secondo me è proprio Il modo in cui li fanno uscire Quello che fanno Però il concetto È d'oro Infatti ci fanno ancora I soldi Figa Sì ovvio Perché il concept è bellissimo Il problema è che Lo fa Game Freak Ma io la noto anche in Magic Per esempio sta cosa Cioè vabbè Giocando a Magic Gioco che esiste dal 94 O 3 anni Mi ricordo E anche lì noto che Lì c'è stato anche il problema Che hanno venduto Ad Asbro Scusate Hanno venduto ad Asbro No Il gran colosso Marvel e la Disney E quindi hanno fatto Insomma delle porcherie Per farci dei soldi Frozen Tipo No hanno fatto Si chiamano Secret Layer Che sono collaborazioni Hanno fatto una collaborazione Anche con Fortnite Se non mi sbaglio Capito Eh bro Che non erano carte Ufficiali Diciamo Si chiama Secret Layer È una roba tipo bonus Non giocabile Però esiste Common Magic L Eh hanno fatto sta roba Hanno fatto un botto di porcherie E anche lì noto Che nelle nuove espansioni Non so Fan delle robe Che magari sulla carta Potrebbero anche essere carine Però manca proprio L'originalità Cioè non hanno più Quelle cose lì Che fino a 5 anni fa 10 anni fa Dicevi wow Minchia che concetto Fighissimo Mancano un po' Adesso per esempio L'ultima Non so se hai sentito Perché è diventata Mega viral Come notizia L'anello L'anello Sì sì ho visto Non lo so Beh racconta un attimo In cosa consiste Praticamente Magic ha fatto collaborazione Con Lord of the Ring Eh Uscirà un'espansione Che si chiama appunto Lord of the Ring Qualcosa Non so Terra di mezzo Qualcosa del genere E vabbè Hanno fatto le card C'è Gollum C'è Frodo C'è Ci sono tutti i personaggi E c'è l'anello Ci sono 5 4 mi pare Versioni dell'anello Cioè la carta è una Si chiama L'unico anello Una versione Una versione È la versione Tipo Unlimitata Normale Rara Ma comunque Ce ne sono 12 miliardi Poi c'è la versione 2 Che ce ne sono Non so 10.000 La versione 3 Che ce ne sono Non so 1.000 E l'unico anello Ne esiste uno solo Tolto che il design dell'anello È una merda È un anello L'anello è l'anello Ma la carta I bordi Cioè fa schifo È troppo brutto Secondo me E poi è proprio Una marciata di idea Secondo me A me fa troppo schifo Beh è un modo per farmare Acquisti È un modo per farmare soldi Allora C'è da dire che se tu sgami Quella carta L'unica Ti fai i soldi Cioè la vendi a milioni Probabilmente no Bro e se l'unica carta La trova un toddler Di 6 anni La fa La morde E la rovina Anche il mio Charizard Prima edizione L'ho distrutto io Ma qual è la diversità Perché Charizard Prima edizione Shadowless Sti cazzi Vale Non so Quanto valga Non ce l'ha 200 mila euro Magari Non ne ho idea Perché dal 90 qualcosa Non so i pokemon Di che anni sono Ne hanno stampati Tot Quei tot Nell'arco di 20 anni Che sono arrivati Magari adesso Le gradano Charizard gradato Del 94 10 Eh Quanti ce ne sono Che dagli anni 90 Sono arrivati a oggi 10 Eh sì pochi Pochissimi Per quello che va al tanto Il black lotus di magic Vale così Perché È difficile Che una carta In 20 anni Sia ancora Mint Perfetta E quindi Magari al mondo Di black lotus 10 Ce ne sono 5 E vale Boh Mezzo milione Sì ma ha senso Che l'anello Ne facciano 1 È un prezzo Che artificialmente Creano l'hype Cioè come box logo Supreme Ne stampavano 10 Che ne stampavano 10 Apposta Perché così diventava rara Però non è una rarità Capito Boh a me non piace il fatto Che non è una rarità Artificiale Certo Non è naturale Non c'è una storia dietro A questa rarità Capito È semplicemente questi che Cioè mi fa un po' Girare il cazzo Perché vuol dire Che loro volendo domani Dicono Ah facciamo la carta Dei fit Mickey Mouse e Paperino Fanno la carta Il centesimo Di Paperone dei Paperoni Uno al mondo E cioè E diventerà Ma non è una roba strana Cioè così È sempre stato così Credo Però non Cioè Non è una casualità Che lo facciano Appena Asbro Li compra Cioè È palesemente Una stronzata Poi è bella Come cosa Perché porterà tanta gente A giocare a Magic Porterà Comunque pubblico Porterà In senso Ridarà vitalità Sicuramente al gioco Blah blah Però a me Dal punto di vista Proprio di flavor Della cosa Non so Mi puzza proprio Di Io di Magic L'unica cosa che so È che Mi ricordo Quando magari da ragazzino Giocavi a Yu-Gi-Oh E c'era quello Il ragazzino più intelligente Che aveva Ah Ma qualcuno di voi gioca a Magic Ah no Sapete come si gioca Vero Inventava le regole Che poi sì Cioè Io quello Lo so E che Magic Era il gioco difficile Perché Yu-Gi-Oh Ai tempi era molto più semplice Adesso vedo che comunque Anche Yu-Gi-Oh È diventato mega Complesso Pieno di robe Però ai tempi c'era L'uomo fagiolo Il mago nero Cioè era easy Adesso si vince in un turno Il Yu-Gi-Oh Penso Non voglio Non voglio nemmeno Addentrarsi nel discorso Zio davvero È un casino Ci sono i video Di quelli che pescano così Fanno Ho vinto E altro fa GG Che cazzo di partita è Minca Piccola info sui Pokémon Zio La risposta dell'Occidente a Pokémon È Palward Lo sai Sai cos'è? No Allora Io spero Palward Il mondo delle palle No no P-A-L Word Cercatelo su YouTube Palward Spero non vengano denunciati Ma è letteralmente Pokémon Fatto con una grafica moderna In cui tu Hai le armi Cioè ti spari Ti spari Cioè tu hai limitato Puoi usare le armi contro i Pokémon Un mix tra Pokémon invece che nel A Kyoto Forse in America Forse Un mix tra Pokémon Monster Rancher E Fortnite Ma poi è fighissimo Perché è proprio cruento Cioè c'hai tipo pistole Che sparano i Pokémon Ci sono i Pokémon Nelle fabbriche Obbligate a farmare Elettricità Cioè una roba che dici Ah ok Capito? È bello dark È stranissimo Tipo The Boys Ma per i Pokémon Tipo The Boys Ma per i Pokémon Esatto E quindi sono mega curioso Di vederlo Bro non vedo l'ora di sparare A un Psyduck Con i proiettili Quelli che una volta Che entrano Si frammentano Le han fatti loro Però sono molto simili Come design e mood Però ovviamente Non sono i Pokémon veri Bro fai quello E mischi in questo gioco Il design di Zelda Che puoi inventare le armi In che così studi I modi più assurdi Per ferire le armi No però che figata sarebbe Che tu c'hai tipo la K E lo unisci Cazzo ne so A biga Cioè crei L'arma La K elettrico Eh sarebbe figo Digimon Low key ha questa vibe Ti ricordi Digimon Che all'inizio partivi da palla Che rideva e diventava Uno scheletro gigante Uno scheletro tipo cyborg Sì Eh sì A me piaceva un bot di Digimon Cazzo da piccolo È molto figo Bro ti ricordi Ma la sigla Il film di Digimon Non so se l'hai mai visto Ce n'era uno Non mi ricordo quale Non mi ricordo Ce n'era uno Che era in cassetta So che c'è Non mi ricordo Se l'ho visto o no Onestamente Ma la sigla di Digimon Non me la ricordo Vuoi cantarmela Dai mezzo Raizzi Italiano bro Ricanta I nomi dei personaggi Tai Matt Ah ok Sora It's I miei Noi siamo amici Siamo noi Catapultati Adigivo Non so se si può cantare O se ce la tolgo Basta Tu non cantarla più Non penso proprio Non te la ricordi Non mi ricordo Bro dopo Scrivilo lì Dopo lo faccio Dopo te la faccio sentire Proprio È troppo bella bro È una canzone Ma tutte le sigle Dei cartoni Ai tempi erano No 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 Questa era proprio Era una hit Ma è sempre Giorgio Vanni È sempre lui Credo Sì Minchia era Aveva Aveva un rateo senza senso Negli anni 90 Giorgio Vanni Era in his bag Minchia Faceva quel pane Ma poi droppava Cioè era proprio Fuoco Tupac nei 90 Non so Era Jordan nel 93 Gucci Mane nel 2006 Sì 96 97 Jordan Giorgio Jordan Vanni Che grande Tutti ora ci vive Grazie a queste cose qua Lui Era Cristina Davena L'altra Sì E poi c'era qualcun altro Cristina Davena però faceva tutte quelle gufi Tipo Tipo Sailor Moon No non so Tipo Pollon Ah beh sì 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 Quelli che dicevi c'è in tv lo guardo Ma avrei preferito qualcos'altro Domani faceva le pesate Sì 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 Esisteva una sigla di Unterrante in italiano No Beh perché no Non lo so non me la ricordo L'hanno mai tradotta Forse no Naruto Ma poi Naruto era bruttissima Naruto Io credo Io credo in me nel cuore mio Brutta dai Quella era un po' una paccata Alcune erano meglio delle sigle giappone Ma tu sei il tipo di persona che negli anime salta gli opening Sì No riguardo il primo episodio Però ci sono quelle opening Perché anche però ci sono quelle opening Che proprio ti rimangono nel cuore Tipo Death Note Io conosco gente che non sa l'ascoltare Metal Solo per la serie di Death Note Sì sì Te la ricordi? Non me la ricordo Però ti ricordo che ti piacera Mi ricordo che spaccava Spaccava Naruto bro Ce n'era una Forse era la prima di Naruto Shikune Ma quella giapponese dici? Ovvio Naruto opening 16 bro Minchia la sai proprio Come faceva? Volevo fare una cover Volevo fare una cover Davvero? E non è rifatta? È troppo bella Eh boh alla fine Magari lo sai che la fai in musica Spero Su YouTube rega c'è un video Che ho fatto nella sua canzone Che tra l'altro ho rivisto recentemente Ed è un bel video In realtà Ah Testa coda Svegliami Sì Svegliami Andate a vederlo E fateci sapere Diretto da? Dall'Anas Dall'Anas Posso dire che quando riguarda adesso Dico Dem era abbastanza avanti Come video secondo me No Io lo guardo con Lo guardo con Nostalgia Erano tempi più felici Dici? Perché Non lo so Forse no però Era stato divertente Era stato divertente Era stato molto divertente Sì 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 E mi ricordo che in una delle scene Tra l'altro così Questo piccolo Inside story In quella dove sono tipo Tra le fronde In quel parchetto Vicino al Duomo Mi ricordo Orribile quel posto Che c'era quella Tu che mi riprendevi Fai vieni un po' più vicino E io faccio C'è uno stronzo di un barbone C'era la merda umana C'era un barbone che aveva cagato Di fianco Vabbè che schifo Comunque Video in 144p chiaramente Qualità bassissima Qualità bassissima Però La roba di L'opening 16 di Naruto Andatevelo a sentire Tutti Cazzo mi pare Se il 16 Sono abbastanza sicuro È quello che fa Ah sì Non è un ending No Sì sì Mi ricordo Non ricordo Beh una hit quella Quella lì È bellissima Quella roba lì Ma parlando di musica Quanto godo bro Che la Dark Polo Gang è fallita Lo so che sono un hater Certificato O pregato per la loro downfall Bro godo Allora Ma si è proprio sciolta No Non credo Però dici Allora Da solisti Stanno andando male Probabilmente fra qualche anno Faranno l'album in tre Perché diranno Ok ne abbiamo bisogno Però si sono separati Bro in quattro Quattro scusami È vero che c'è anche Side Rispetto per Side Bro Cioè Wayne Ormai è tipo Un goofy Fa le canzoni alla The Weeknd Però non se lo caga nessuno Dylan Perché non è più Pyrex Pure Tony l'unico che sopravvive Ma sai perché bro Tony non è un rapper Dicevo Tony bro è il capo È un influencer Slash youtuber Cioè lo vedo con la stessa ottica Con cui magari vedo Non lo so Grambaud Tipo Capito che fa musica Perché lui bro Deve andare avanti di Ah mazzettata sotto i denti Ah quanto cazzo Sono british E deve sempre trovare Tipo la catchphrase Così i ragazzini memano E lui rimane lì No E il fatto che la gente Minchia dica Ah ah Il capo della trap E Ti sta sul cazzo Mi sta sul cazzo Ma perché bro Io non ce la faccio vedere Uno che Che è tipo Gioiellieri di famiglia Con le case a Rione e Monti Che se non mi sbaglio Come averle in Duomo Giusto Perché accanto al Colosseo È super centrale Sì Quindi con proprietà da milioni E dicono Guardalo il capo della trap Ed è tipo Proprio Nepotismo totale Cioè il tipo è Mega ricco di famiglia E la gente dice Vabbè ma non è quello che Cioè Cosa vuol dire Tony le fa davvero le cose Dico beh Doppiamente coglione Perché Per quale motivo My brother Letteralmente il giorno Che vendi la casa di famiglia Sei milionario Cioè easy Capito Non so Io ho sempre trovato cringe La dpg Anche se all'inizio Mi piacevano un botto Però dopo un po' ho detto Poi sto ascoltando Wayne Santana Con le armi nei video Che mi parla di rapine Wayne Santana Cioè figlio di avvocati Ma davvero Cosa sto ascoltando E l'ho detto Aight Quindi godo Che finalmente la gente Sta capendo che sono dei cringioni Infatti la nuova wave Tipo appunto Kidi Ugi Tutta sta gente qua Tony Boy no Tipo hai visto la post Ti piace Tony Boy? No però C'ha esweggato Però mi piace Però capì A me non dispiace No non è male E' sta gente che si veste normalissima Capisci? Che sono tutti Sono tutte persone comuni Che cercano di svoltare col rap E sono bravi zio Comunque La dpg per me era tipo Una boy band E lo dicono anche loro Che erano una boy band Ed erano attori Ma a me Tony piace Come Personaggio Cioè non mi piace Non mi piace in quel modo lì Tipo Sì grande Tony Sei il capo Capo della trap Quello no Perché quello Vabbè è più una roba Quello papaggio Iegliere Mi cringio Quello è più una roba Da pischelli Ovviamente No a me Lui L'attitudine Quella roba lì Secondo me Ci sta A me A me tipo Wayne non piace Invece E invece la roba Di Pyrex A me piaceva un botto Pyrex Il suo disco solista Pyrex aveva un bell'immaginario Sì sì Era una figata Aveva un bell'immaginario Adesso io non capisco Ha cambiato nome Si è chiamato Dylan Ha cambiato Sai tipo Instagram così Sì sì Le canzoni sono uguali A prima Cioè non è cambiato nulla Poi Quella cosa del fare Rebranding Che dice magari La gente adesso Mi caga no Mi ascolta E che bro La Dark Pollo Gang È stata troppo un'anomalia Cioè davvero Per me è stato assurdo Che in Italia Abbiamo avuto un certo periodo In cui Mega swag Perché dai I primi Full Metal Dark Ti ricordi Crack musica Full Metal Dark era assurdo Crack musica Bellissimo The Dark Album E Succo di Zenzero Nessuno può dire Che sono una merda Sono bellissimi Bellissimi Però secondo me La gente si è stufata Di vedere Poi ti ricordi Che ai tempi Andava di moda Dire Vestirsi Balenciaga Ti ricordi Che andava di moda Anche il Cosa hai addosso Sì quanto E tutti i ragazzini L'erano tutti Adesso invece C'è questa moda Più maranza Che anche se Non ho un popolare Opinione Magari mi diranno Bro mi piace di più Sta cosa che Adesso i rapper Dicono mi metto La tuta tarocca Piuttosto che un tempo Che dicevano Guarda Valenciaga E sei figlio Ripeto Di registi Avvocati E quindi Vedevi questi ragazzi Del centro Di Roma Sì Che parlavano Di armi nei video Cazzate E arrivano tutti Da background Veramente Molto benestanti E uno può dire Vabbè ma quindi Vivono davvero Quelle cose Personalmente Non credo che Wayne Santana Sia mai stato Veramente un Un criminale Capisci Cioè per essere lì Alla fine basta Che parli di quello Che hai vissuto Se hai fatto Università privata Andavi a cavallo Parla di quello E spacca Cioè non mettere Le armi nei video Parlare di criminalità Se i genitori Prenditori A me sta cosa Del background Non frega Onestamente Non è che mi interessi Troppo Perché Cioè alla fine Devo ascoltare la musica Poi se quello Che dicono è vero Non è vero A me Però non ti dà fastidio Quando vedi uno Che ti dice Cioè a tutti Secondo me piace La storia del tipo Che non ha nulla E che ce la fa Quando ti guardi Un documentario Anche su uno sportivo Ti casa a vedere Quando partiva dal niente Quindi quando Vedi questi qua Che dicono Che arrivano davvero Dall'essere già molto Benestanti Che ce la fanno Nella musica Parlando di robe Criminali Non lo so Io ho sempre pensato È troppo Goofy Vedere Side Con suo padre Che dà la mano A Tarantino In un evento Per registi Dici No ma questo In questi ambienti O il padre Mi ricordo che un'intervista Fa che si Portava Side A lavoro Nella regia Per tirarlo in mezzo Dico ma ti rendi conto Di che possibilità Hanno questi qua Fin da sempre Che poi rispetto Che ce l'hanno fatta Però sempre pensato Cioè Sembra che vogliano Essere di strada Che se no che dicono Papà perché sei ricco Perché Eh lo so Volevo un background Real Capisci E quindi Mi cringe E perché soprattutto Nel rap Cioè dovevi Cioè c'è questa roba Del devi essere real Devi essere questo Se parli di certe cose Semplicemente devono essere cose Che hai vissuto Però non vuol dire Che devi parlare di rapine Però Puoi parlare anche di Anche i rapper old school Bro Non è che poi Fossero davvero I rapper quelli Che ci ascoltavamo Da piccoli Italiani Intendi Non è che fossero Più real Eh bro Infatti mi è un po' Mi è un po' Cioè i club dog Non è che abbiano mai vissuto Eh bro Ma Jake La Furia Bravissimo King Serpi Top Forse canzone rap Italiana mai scritta Neuronicamente Gli anni d'oro Lo amavo Però adesso no Quando vai a scuola Zio Se fai il grafico Magari E ti parlano del padre Vigorelli E scopri Uno dei pubblicitari Più famosi in Italia E colleziona barche Dici Ci sta Grande Jake Sei bravo Però dentro di me Dico Minchia Questo qua è cresciuto Super ricco Capisci Però dovrebbe farti capire Che in realtà Cioè Se tu non avessi Mai scoperto questa cosa Jake era un capo Assolutamente Però in realtà Non ci sta Ma solo nel torto Secondo te Ma perché bro Mi fa Allora Non so se sei nel torto Cioè capisco la cosa Secondo me È come dire Devo separare L'arte dall'artista Però se la tua arte È Quello Cioè bro Se adesso Ok Pensa al figlio di Biratore O il figlio di Fedez Quando avrà 20 anni Magari fa drill Sì Te lo ci vedi A fare drill A dire Perché bro Sai chi Soldi sporchi E tu Magari la canzone È bellissima Però davvero Riesceresti a prendere Sul serio quella cosa Sapendo da dove arriva Io onestamente Ho il pensiero Che anche Cioè per dirti Anche metà dei rapper americani Che ascoltiamo Siano dei Secondo questo discorso Dei fake Tendenzialmente Si sa chi sono Si sa da dove arrivano Il quartiere da cui arrivano E sai che Che è orribile Il ghetto Poi ci sono i fake Però anche 6ix9ine Che è considerabile un fake È un fake magari Per quello che voleva rappresentare Però di certo Non arrivava da un background Ricco E parlava di Quello che è Capisce Quello che Però non lo so Se sei in atto Parla di quello che hai vissuto Cioè io penso la stessa roba Per dirti Adesso che Kanye West È impazzito Io comunque Cioè non è che non mi ascolto più E i tuoi tenardi Però è una roba diversa Quello Cioè non ti sto parlando di quello Quella cosa È diversa È diverso la base Da cui parti Però è sempre separare lui Da quello che fa Capito Sì ma io non posso separare Quello che Cioè se tipo Tu quello che fai Tra l'altro lui stesso Non era per esempio Un povero mega Capito No era Comunque viveva Una zona orribile di Chicago Nel senso Non è che era Madre single Però non era capito Il gang member Era una maestra Era una maestra Cioè era un insegnante Non è che era Non era Ma infatti lui non ha mai parlato Di Cioè se ascolti la sua musica Però era il tipo Che aveva le pink Le camicie rosa Nel senso Non si è mai presentato Come il gangster Però beh i motivi sono diversi Ma comunque il concetto è che Però è diverso Per me comunque Se tu Tu puoi essere Cioè se io domani scoprissi Che Jay-Z era nato ricco Non è che dico Però capito Svaluta tutto quello che ha fatto Perché se la tua musica È connessa a come hai vissuto Se tu ti programmi Luster venuto dal niente Se poi si scopre Che sei nato ricco Cioè proprio perde concetto La tua musica Se tu nella tua musica Parli di unicorni E Cazzo ne so E arcobaleni Non so perché ho detto sta roba O dei pokemon Può essere Chi cazzo vuoi Può essere il figlio Del re E va bene Perché cazzo se ne frega Ma se sei il figlio di Cioè se sei Jay-Z Quindi sei un fan di Leon Faun Grande Leon Faun Goat Grazie a tutti Grazie a tutti